Ha confessato di aver ucciso l'ex marito, la 48enne Maria Ripalta Montinaro, che ieri pomeriggio a Margherita di Savoia ha coltellato alla gola il suo ex coniuge Nicola Pizzi, di 53 anni, al culmine di un violento litigio, cominciato nella sua abitazione e finito in strada in via Frontino, dove si è consumato l'omicidio. A rivelarlo sono i due legali della donna, gli avvocati Bernardo Lodispoto, che è anche il sindaco del comune Salinaro, e Mario Aiezza, sottolineando come la loro assistita stia assumendo un atteggiamento collaborativo nei confronti della magistratura. Raggiunta dai carabinieri nel suo appartamento, dove si era rifugiata subito dopo il delitto, la 48enne è stata arrestata con l'accusa di omicidio e trasferita in carcere, dove è stata interrogata dal sostituto procuratore di Foggia, Rossella Pensa. Nelle prossime 48 ore, fanno sapere i due penalisti, sarà fissata l'udienza di convalide davanti al GIP e in quella sede verrà valutata la possibilità di chiedere eventuali approfondimenti di natura psichiatrica. Sarebbe stata la donna a consegnare ai militari il coltello da cucina utilizzato per uccidere il marito, raggiunto da un fendente alla gola, che gli ha reciso la giugolare. Dalle indagini sono emersi problemi tra i due ex coniugi, separati da 7 anni e con due figli di 19 e 25 anni. I loro rapporti, infatti, sarebbero rimasti tesi anche se non sono mai sfociati in denunce o contenziosi legali. Pochi giorni fa era arrivata la sentenza di separazione definitiva e potrebbe essere stato questo ad acuire ulteriormente i dissapori nella coppia. La procura di Foggia ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima.